La Ria L'interview di questa settimana è dedicata al sassofonista Marcello Allulli. L'intervista nasce in occasione dell'uscita del suo ultimo disco, Matt, album registrato in trio con Francesco Diodati e Lermanno Barolo. Liberetto di Lars Depp. E' il disco che abbiamo scelto di riproporvi sulla home page di Jazz Convention. Nella sezione articoli potrete leggere l'articolo su Torino Jazz Festival, scritto da Guido Michelone con le foto di Ferdinando Caretto. Le recensioni nella home page del sito questa settimana sono Mira, del trio composto da Harold Anderson, Paolo Binaccia e Tommy Smith. Barbershop realizzato in quartetto da Franco Cerri e il rinascimento del Quinteto Portegno. Come di consueto vi invitiamo a seguirci su www.jazzconvention.net e sulle nostre pagine dei principali social network per scoprire gli aggiornamenti sempre presenti sul sito come le notizie relative ai concerti presenti nell'agenda e comunicati. Intanto vi saluto, vi do l'appuntamento la prossima settimana sempre su Jazz Convention on TV.